Ciao, come stai? Ciao, bene, tu come stai? Ma piacere di vederti Piacere è tutto mio Ma si esiti, accomodati Sempre un meraviglioso pubblico Ma veramente un bellissimo pubblico Se è qui che è a casa I signori autori di questa bellissima trasmissione Mi continuano a viziare, ma guardate che meraviglia Se è qui che è a casa I signori autori di questa bellissima trasmissione Mi continuano a viziare, ma guardate che meraviglia Ma benvenuto Grazie, grazie I complimenti sono sempre ben accettati Grazie, grazie mille, complimenti a te per l'orgoglio Ho letto che sei napoletana Sì Attrice, attore di Napoli Creatori di commedie, di libri Napoli è una città che ha dato dei personaggi straordinari Diciamo che all'attore l'aiuta Creatori di commedie, di libri Napoli è una città che ha dato dei personaggi straordinari L'attore l'aiuta, l'aiuta moltissimo Per favore ragazzi, datemi un panno fresco Ma non l'hai sposto però Devi fare l'attore, devi rispondere Ma che devo dire, che devo fare? A questo punto io mi inchino davanti a lei Grazie, bravo Le faccio la mano Brava Sì che sei un signore Tutti hanno capito a casa che la tua dichiarazione d'amore era fasù Anche io penso, no? Ma assolutamente sì E fermiamoci qua che è meglio Saludiamo la nostra